Hello my friends, bentornati in questo nuovissimo video di bombe di mercato e se sta uscendo è perchè c'è un trapano che sta trapanando no, invece perchè sono arrivati 3 mi piace allo scorso episodio quindi almeno 3 mi piace per avere il prossimo episodio di bombe di mercato bentornati ragazzi allora, io vi avviso, 3 mi piace non vi costano un cazzo quindi io non è che vi porto 2 episodi massimo al giorno ve ne porto 3, ve ne porto 4, ve ne porto 5 al giorno e non sto scherzando se volete i 5 episodi potrete lasciare ogni volta 3 mi piace, arrivo al prossimo poi se vedo cazzo che arrivano 10 mi piace allora magari aumento forse 3 mi piace un po' pochi, diciamo 5 ma comunque lasciate almeno 3 per avere tra primo e secondo canale un nuovo episodio di bombe di mercato direi ragazzi di partire dalla situazione alla Lazio magari non sarà un video lunghissimo, sarà un video di 10 minuti che comunque è un sacco ma comunque per le episodi e le bombe di solito vi aspettate 15 minuti mentre invece in questo caso ragazzi direi che lo faremo anche un po' più breve perchè non c'è chissà che cosa, non ve lo nego, non c'è chissà che cosa ma comunque il video è interessantissimo Cardi Secchi ragazzi potrebbe ridiventare un giocatore della Lazio è il nome in POI POSITION ho perso il filo di discorso perchè l'ho stoppato per circa 5 minuti perchè c'era gente che urlava e trappani ma comunque Cardi Secchi sta tornando in VOGAP come nome per la Porta della Lazio perchè ragazzi? perchè Cardi Secchi sembra che adesso non si opera un giorno di confe, si opera un giorno no ma allora partendo dal presupposto che mettendo che si operasse adesso sarebbe il momento ideale perchè i tempi sarebbero 3 mesi mettete che 2 mesi risalta perchè fino al 14 giugno inizia più o meno il campionato mancano 2 mesi all'inizio del campionato manca l'internità iniziare il campionato in quel giorno poi invece ci sarà un mesetto di campionato quindi anche se si operasse sarebbe 1 o 2 mesi di campionato ci sarebbe Reina ragazzi non è una tragedia dobbiamo capire quello Cardi Secchi comunque sarebbe il nome ideale per la Lazio Sarri ha detto io voglio Cardi Secchi ma voglio Cardi Secchi ma voglio Cardi Secchi cioè non una carne secca ma più comunque Cardi Secchi potrebbe assolutamente diventare il nuovo partire titolarissimo inamovibilissimo da Lazio Pratt ragazzi Pratt ha fatto una super stagione col Torino per il Torino non vuole riscattarlo ma perchè? perchè costi 15 milioni e conoscendo Urbano Cairo che è un tir che è la Madonna non è tirchio come dei laurenti sono ancora peggio lo tirchio però Pratt potrebbe essere rinnovato il prestito per farlo di valere però oltre al Torino ci sarebbe anche in voga un magico ritorno ragazzi alla Sampdoria qua continuo a aprire cancelli e cose varie alla Sampdoria è molto impossibile però mai dire mai e conoscendo il mercato io dico che si fa no non è vero però non lo so ragazzi al Torino secondo me ci rimane e magari ci potrebbe essere una trattativa con la Sampdoria che viene l'Aaron percazzo Di Marco ragazzi rimanendo sulla pista Torino Di Marco è un nuovo che piace molto al Torino per l'esterno no 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 assolutamente no cioè l'esterno Di Marco è un difensore centrale e cazzo lo prendi come esterno un applauso che cazzo lo prendi come esterno non ha il minimo di senso perché adesso è un terzino sinistro che sta giocando come centrale sinistro e ormai è diventato un centrale non puoi farlo ricompattare manca dire terzino esterno non ha senso però se iniziasse a giocare con i terzini oppure o mettesse al posto di Bremer che probabilmente partirà potrebbe avere un senso non lo so non penso neanche che arriverebbe perché non penso che l'Inter si lascerebbe scappare di Marco vorrò mai dire mai Vasquez ragazzi non Lucas Vasquez che era stato un nome accostato quando era arrivato Gattuso era stato accostato alla Fiorentina Vasquez quello che è sceso in B con il Genoa non ci vuole rimanere giustamente in B e allora potrebbe arrivare alla Fiorentina non sarebbe una trattativa impossibile secondo me si farà alla fine un buon terzino barro esterno si è un buon giocatore ragazzi Vasquez è un buon giocatore vediamo la cifra per un buon giocatore a prescindere da prendere 5 milioni a prendere 10 milioni è comunque l'affare è un buon giocatore ragazzi ne sono certo può andare alla Fiorentina e sarà un grande acquisto Marchetti ragazzi Marchetti potrebbe arrivare clamorosamente alla Lazio per fare che cosa? per fare Siles e per andare alla Lazio a fare il terzo portiere in questo momento mi sembrano Adamo Onis terzo portiere titolare a Lituania con un altro discorso ma non voglio tenersi magari Reina come terzo portiere potrebbe esserci Marchetti che ha detto addio al Genoa ci sarebbe assolutamente magari fa quelle due partite stagionali che magari proprio mettete infortunato Carnesecchi Reina squalificato si gioca a Marchetti e perché no ragazzi perché no Marchetti a Lazio comunque sarebbe una strada possibile un magico ritorno di Marchetti a Lazio anche se io preferirei classe al Cagliari però si può fare tranquillamente Marchetti a Lazio poi quando cazzo volete che prenda Marchetti? 200 mila euro all'anno 100 mila euro non prenderebbe niente oggettivamente fa prima andare a lavorare comunque a parte gli scherzi sarebbe anche molto possibile per me Oliveira ragazzi è un giocatore molto interessante per il Napoli perché la Roma sembra abbia detto a Mourinho no non lo riesca oh ma succede come con la Fiorentina noi non ti prendi che disse la Gattuso noi non te lo prendiamo a Oliveira ma non serve a Mourinho va al Paris Saint Germain comunque a parte gli scherzi Oliveira al Napoli si fa è fattibile per quanto mi riguarda è fattibile anche se io continuo a non vederci senso perché centrocampo ecco magari al posto di Fabian Ruiz potrebbe essere un indizio qualora partisse Fabian Ruiz farà arrivare Oliveira quello si allora però se non partisse nessuno che senso ha Oliveira cioè centrocampo sede con Fabian Ruiz Zambuanghissà Oliveira Lobotka Temme non ha un minimo senso però si potrebbe fare secondo me Oliveira a Napoli secondo me si può fare prestito magari con diritto di riscatto magari anche col prezzo uguale 10 milioni 12 milioni diritto di riscatto che magari aveva la Roma oppure perché no la Roma che lo riscatta magari al posto che 12 milioni lo riscatta a 10 lo vende al Napoli a 14 a 12 comunque facendo una minusvalenza cioè una plusvalenza minima però una plusvalenza Oliveira è un nome più di centrocampo secondo me più che altro in caso di addio di Fabian Ruiz un ass ragazzi continuando sulla pista Napoli un ass potrebbe essere un giocatore inserito nella trattativa con Napoli per Diolofeu Diolofeu secondo me alla fine ci arriva è al Napoli però potrebbe essere messo come contropartita per l'Udinese un ass ragazzi che è un giocatore che non ha mai espresso il suo meglio secondo me io ve lo dico potenzialmente era o è perché comunque non è vecchia ha 24 anni è un Mares 2 però contando ragazzi tutte le esperienze che si ha fatto cioè sta girando mezzo mondo Nizza mi ricordo al Crotone al Cagli ha fatto un sacco di genere stava arrivando una puttana comunque ha girato tantissimo e adesso potrebbe arrivare all'Udinese secondo me sarebbe un buon affare magari Diolofeu lo prendo a 15 milioni più una che comunque per me di 4-5 milioni vale quindi all'incirca 20 milioni secondo me si può fare Empoli Zanetti ha espresso la sua lista ai giocatori che si vuole portare dal suo Venezia tutti fattibili per me tranne uno ovvero si vuole portare Aramu Ceccaroni Henry allora Aramu sembrava inizialmente cercato la Fiorentina di italiano ma sembra che non si farà perché perché l'ultima parte di stagione è che abbia fatto tanto quindi probabilmente non si farà Ceccaroni si può fare tranquillamente cioè non si farà per la Fiorentina quindi Aramu può arrivare Ceccaroni ha un macellaio io ci avevo fatto una calcio comunque ha un macellaio però se in pagella se lo prendeva così sempre è un buon giocatore ragazzi ve lo consiglio qualora arrivasse all'Empoli mentre il Vacerri secondo me è il più complicato perché perché c'è un'offerta al Venezia dell'Atlanta DC quindi già quello partirebbe in pole position però mettendo ragazzi che non arrivi all'Atlanta c'è l'offerta comunque a Verona che è arrivato prima e avrebbe la possibilità preferenziale però conoscendo che magari la volontà di Zanetti potrebbe sovrastare quella vorrebbe proprio farla arrivare e quindi conoscendo anche Zanetti magari voglio fare un minimo pacchetto regalo a Henry all'Empoli sì ragazzi ci sta comunque secondo me Aramue Ceccaroni arrivano Henry un 30% che è basso ma comunque da 30% Verona a 30% Atlanta a 30% Empoli e 10% magari altre squadre come vice magari perché no a Lazio sto sparando comunque saremo a vedere piccoli ragazzi teoricamente dovrebbe essere riscattato mi si stanno incrociando un sacco gli occhi mi stanno morendo sembra non essere ogni tante probabilità riscattato dal Verona che però vedendo le offerte a mille strade Atletico Madrid Viglia Real Siviglia Tottenham l'ho visto Juventus Inter magari no perché ci hanno 25 attaccanti Juventus Napoli Fiorentina Lazio a tutte le strade possibili ragazzi c'ha 25 squadre interessanti Italia Estero e da tutte le parti veramente se vedete anche sotto casa vostra c'è una squadra interessata a Simeone comunque vedendo anche perché sicuramente a parte magari quelle cioè a parte quelle italiane hanno visto semplicemente ragazzi i gol fatti perché Simeone è stato discontinuo per quanto riguarda visto i gol fatti 18 si però magari 10 li ha fatti in due giornate che comunque sono gol però vedendo la discontinuità non sarebbe un ottimo nome comunque il suo sostituto teoricamente dovrebbe essere piccolo operazione a 4 milioni sembra essere anche molto vicino ci stare ragazzi piccoli non dico che è un talento perso però si può fare tranquillamente Barak ragazzi è il nome che interessa molto al Napoli chiudiamo qua il discorso teoricamente se partisse Zielinski per 20 25 milioni arriverebbe per 15 20 quindi è praticamente la stessa cifra Barak dal Verona ci sta ragazzi sono sicuro che si può tranquillamente fare Barak al Napoli perché lui ha detto io me le voglio partire voglio giustamente andare a giocare magari l'Europa Champions League Europa League perché non anche la Conference quello che ha detto Brecalo ha detto per favore non riscattatemi io vorrei andare a giocare in una squadra che magari gioca la Champions League o l'Europa League per favore non riscattatemi potrebbe chiedere l'accessione al Verona Brecalo Barak per giocare proprio l'Europa anche la Champions League perché no con Napoli e ragazzi questo episodio di Bombe di Mercato vi saluta 3 mi piace per avere il prossimo episodio noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao